Buongiorno Martina saluta Ciao Allora Oggi faremo un vlog La foto l'ho dimenticata No Martina lascia stare Perché in camera mia c'è il regalo per lei Che tra un paio di giorni fa il compleanno E quindi con la scusa che devi andare a prendere la foto Sale sulla scala del mio letto E va a prendere No davvero la foto La foto E con cane Stupido amore Oggi faremo un vlog Perché è da tanto tempo che non facciamo video Perché nel vlog tu stai sempre bene Sei una Minchiona della miseria E io sono la cesta della miseria Ciao Allora Cortesemente se mantieni questo Riesco a recuperare gli stivali Martina Sì Chi è la gacchona Io In primo piano Io Sì Ok Ora Mantieni Stai registrando il muro Bello il suono in faccia Bonni Cosa vuoi dire Mamma Ma Bonni cosa vuoi dire di interessante Dove è? Sì Sì Shake 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 Do I ripenderemo? Sì Do I ripenderemo? ora io devo mettermi gli stivali io li devo ingrassare dopo perché vogliamo parlare della mia che ancora fin cresciuta dopo vi faremo vedere anche il mio cavallo che è ancora per poco l'amore mio perché fai no? allora lei è Martina noi dovremmo ancora fare il video presentazione però non fa niente perché siamo persone guarda sembra che ho un rossetto sembra che ho un rossetto però non ce l'ho il rossetto vediamo io non mi riprendere? ah ma è vero Giacomo perché? ma che? vabbè ma non è che è photoshopato sto cosa l'amore mio bella bella ronda si chiama bella è patatosa quindi ora mettiamo non lo so qualche video mentre li sistemiamo e vai bella Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.